Ragazzi, prima di iniziare vi invito assolutamente a passare sulla mia pagina Facebook poiché lì trovate il video di auguri da parte di tutto il network e da parte anche di altri YouTubers. Non vi dico niente, quindi ragazzi andate sulla mia pagina Facebook, spolliciate assolutamente, condividete il video e mettete anche mi piace assolutamente alla pagina Tom's Network e iscrivetevi anche al loro canale. Quindi iniziamo! Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video ma se siete su questo canale ovviamente già lo sapete, faccio questo brevissimo video per farvi i miei migliori auguri di buon Natale finalmente ci siamo, ovviamente ora in questo momento per me non è ancora Natale sto intanto portando un cappello come vedete come sciarpa, comunque lasciamo perdere tutte queste cose però per voi sarà sicuramente quasi Natale, infatti questo video credo che ve lo pubblicherò il 24 verso le 6 più o meno diciamo un pochino prima che si mangia, va di solito da me si mangia abbastanza presto per il Natale comunque come vi dicevo volevo farvi semplicemente i miei migliori auguri di buon Natale questo video credo sia uscito come video extra, come video diciamo di supporto per un altro video principale e volevo anche dirvi che domani molto probabilmente ci fermeremo un pochino quindi domani non ci sarà alcun video, quindi il giorno di Natale ce lo prendiamo anche noi un pochino di festa e godetevi le feste, per una volta cerchiamo di, non lo so, goderci un pochino la vita vi starete chiedendo cosa c'entra la mancanza di video con il godersi la vita, praticamente nulla anzi forse è meglio vedere qualche video in più sinceramente qui su YouTube e perciò quindi non so in quanti potrebbero essere disponibili a guardare qui un video su YouTube quindi domani ci fermiamo un pochino però riprendiamo assolutamente con la programmazione già dal 26 quindi ci fermiamo solo il giorno di Natale e magari Capodanno o forse il primo dell'anno vediamo un pochino comunque rinnovo i miei auguri di Natale, passate queste feste nel migliore dei modi e quindi noi ci diamo appuntamento dal 26 in poi